buongiorno eccoci come vi avevo detto nel video creazioni questo sarà un video tutorial si tratta degli orecchini seddi con un cabochon ovale 13x18 in questo caso ho usato uno di quelli di tinting in resina quindi quelli cicciottelli dietro in questo invece uso uno di quelli in vetro non svaroschi ma in vetro e quindi un po più piatto dietro ma viene esattamente allo stesso modo passiamo subito all'elenco dei materiali allora appunto cabochon ovale 13x18 goccia che vabbè sempre discrezione sapete che a me piacciono cipollotti 3x2 mm quindi non i 3x4 i 3x2 quelli piccoli piccoli che potete sostituire con le 8 0 super duo io le uso di due colori ma descrizione vostra e rocaille 11 0 ora partiamo subito ago e filo io uso il normale filo da tessitura mi yuki eccetera eccetera un ago è il non lo so 10 e allora partiamo subito vi faccio vedere il primo pezzetto prendete sul lago un cipollottino e due 11 0 e ripetete questa sequenza per otto volte quindi dovrete avere otto cipollottini e otto gruppetti da due 11 e chiudete a cerchio adesso lo faccio ci vediamo dopo benissimo ok una volta chiuso a cerchio abbiamo tenuto questo uscite da un cipollotto uscite da un cipollotto ora mettete sul lago 5 11 0 4 5 5 11 0 e saltando le 11 entrate nel cipollotto dopo mi trema la mano perché sono appoggiata male sul braccio ok tirate il filo e fate questo per tutto il giro bene una volta terminato anche questo giro uscite dalla rocaille di punta di un archetto da 5 quindi la terza mettete sul lago 3 11 0 ed entrate nell'archetto non c'è nella punta dell'archetto dopo senza tirare troppo il filo lo facciamo dopo e ripetete questo per tutto il giro benissimo terminato anche questo giro vedete che si sta formando una gabbietta dobbiamo inserire il cabochon lo inseriamo a faccia sotto e fate attenzione che vedete qua che le parti diciamo strette le punte non so come dire risultino in mezzo a due cipollotti quindi anche nell'inserirlo a faccia sotto facciamo bene attenzione guardando guardando il cipollotti sotto ad inserirlo in modo che rimanga in quella posizione eccoci qua dopodiché andiamo a tirare il filo bene e ripassiamo un paio di volte in tutte le perline in modo che si chiuda bene adesso vi sembrerà che non mi si chiuda perché usando il cabochon quello di vetro un po spesso se usate gli svaroschi sicuramente riuscite con meno fatica ma non preoccupatevi anche se usate quelli di vetro idem quelli di di resina che sono cicciottosi se andate a tirare bene attenzione a non rompere il filo a ripassare bene in tutte le perline col filo poi si in gabbierà perfettamente e ci vediamo dopo ok una volta chiuso bene il lavoro vedete che è incastonato attraversate le perline fino ad uscire da un cipollottino ora inseriamo sul lago 3 11 0 aiuto 3 11 0 ed entrate nel cipollottino successivo ok e fatelo per tutto il giro eccoci qua terminato il giro vedete che stiamo uscendo uscite da la punta di un picco appena fatto quindi dalla seconda rocaille delle tre nel mio caso stiamo uscendo da diciamo questo spazio laterale sulla destra no questo è il centro il picco di punta vedete e quindi stiamo uscendo dallo spazio quello a sinistra cosa facciamo inseriamo sul lago un cipollottino una super 2 io uso il primo colore quello scuro ed entriamo poi nel nella punta cioè cipollottino super 2 cipollottino ed entriamo poi nella punta successiva eccoci qua no adesso di nuovo un cipollottino una super 2 e un altro cipollotto ed entriamo anche nella punta dopo ok in questo modo stiamo andando a fare la parte o bassa o alta dell'orecchino qua eccoci qua ora lateralmente cosa dobbiamo fare prendiamo sul lago 3 super 2 io prendo una del primo colore una del secondo un'altra del primo ed entriamo nella punta dopo quindi lateralmente mettiamo solo 3 super 2 di nuovo una super 2 io uso primo colore secondo colore e primo colore quindi altre 3 ed entriamo di nuovo nella punta dopo eccoci qua vedete ora cosa dovete fare dall'altro lato esattamente la stessa cosa quindi per due volte adesso andrete a inserire questa sequenza e poi qua sul fianco ancora le 3 super 2 e ci vediamo dopo terminato il giro uscite da allora io devo sistemare le dita in modo che vediate allora uscite dal cipollotto centrale dal secondo della prima sequenza vedete qua in mezzo inserite sul lago 2 super 2 io uso il primo colore 2 super 2 ed entriamo nel cipollotto successivo e anche nelle altre perline adesso vi spiego tiriamo bene il filo in modo che le super 2 si incastrino e adesso cosa dovete fare dovete attraversare tutte le perline fino ad arrivare in questo cipollotto e fare la stessa identica cosa bene ora ho inserito la seconda coppia di super 2 e sto uscendo dalla super 2 accanto come vedete cosa faccio salgo nel foro superiore forse se non perdessi lago salgo nel foro superiore prendo un cipollottino e dentro nella super 2 a sinistra eccoci qua ora prendo un'altra super 2 io prendo una del secondo colore e la metto tra le due super 2 che abbiamo inserito prima in modo da formare una punta ora di nuovo un cipollottino e dentro nella super 2 dopo in modo che vedete sia uguale da un lato e dall'altro adesso cosa faccio vedete qua lo spazio più grande prendiamo due cipollottini ed entriamo nella prima delle tre super 2 eccoci qua adesso una 11 0 ed entrate nell'ultima super 2 delle tre ed attraversate anche quella vicina in modo da unire i due gruppetti senza inserire nulla eccoci qua vedete ora cosa dovrete fare per tutto il giro rimetete questi passaggi adesso inserite ancora una 11 tra le super 2 due cipollottini un cipollotto la super 2 un cipollotto due cipollottini e via così fino a terminare il giro benissimo terminato il giro uscite dal cipollotto quello che precede la super 2 di punta prendiamo sul lago 3 11 0 faccio fatica perché alla fine ho tutte quelle chiuse 3 11 0 ed entriamo nel foro superiore della super 2 ora prendiamo 4 11 0 e rientriamo nel foro da cui stiamo uscendo questo è il cappietto dell'orecchino di nuovo 3 11 0 e scendiamo adesso di nuovo nel cipollotto e in qualche perlina dopo vabbè ok eccoci qua poi vabbè andiamo a sistemare un po' con le dita le perline in modo che risultino pari poi tanto andiamo a ripassare ok adesso attraversate tutte le perline fino a uscire dallo stesso cipollotto dalla parte opposta da questo qui eccoci qua adesso facciamo la stessa cosa 3 11 0 uscendo dal cipollotto entrate nel foro alto della super 2 ok di nuovo stavolta direttamente le 3 super 2 3 11 0 perché non dobbiamo più fare il cappietto ed entriamo nel cipollotto e nella super 2 e basta ok ora cosa facciamo per riuscire a uscire da qui dobbiamo uscire da questa rocaille senza stare a fare tutto il giro se volete così nel mentre rinforzate il lavoro fatelo io lo faccio dopo io faccio così entro nel foro basso della super 2 mi giro per comodità scusate nel cipollotto eccoci qua dobbiamo praticamente passare al contrario vedete da queste perline per poi arrivare ad uscire da questa super 2 e ritornare su quindi aiuto mi sono persa eccoci qua sto scendo dal cipollotto attraverso i fori inferiori delle forse questo video sarà lunghissimo non mi fa impazzire eccoci qua delle due super 2 ok non ti stringere così tanto poi di nuovo il cipollotto e la super 2 ora mi rigiro non odiatemi spero si capisca risalgo nel foro alto della super 2 passa attraverso il cipollotto e le rocaille quindi eccoci qua siamo arrivati ad uscire dove dobbiamo uscire ripeto potete anche fare più semplicemente tutto il giro così andate a rinforzare il lavoro ma io in genere lo faccio dopo per terminare il filo che mi avanza finché ci sta quindi ora cosa facciamo inseriamo abbiamo due 11 0 sul lago un cipollotto e la goccia ed un'altra 11 quindi abbiamo due 11 0 cipollotto goccia un'altra 11 scendiamo portiamo tutto giù rientriamo nella goccia saltando la 11 rientriamo nella goccia nel cipollotto questo è il mio solito metodo per inserire le gocce tiriamo in modo che il cipollotto sia ben vicino se non vi viene bene tirate bene la rocaille in fondo e poi ritirate non so se mi sono spiegata ma va bene prendiamo due nuove 11 0 e rientriamo nelle 11 successive e in qualche perlina dopo e tiriamo il lavoro ok vedete tutto si è andato a posizionare perfettamente ora l'orecchino è terminato come vi dicevo io adesso vado a ripassare un bel po' di volte il filo nel lavoro faccio qualche nodo e taglio e monto la monachella spero che il tutorial sia stato chiaro vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao